buonasera a tutti ragazzi bentornati sul canale ragazzi stasera vi parlo di un oggetto che ho trovato e praticamente mi hanno detto se potevo sponsorizzarlo io sinceramente ve lo mostro perché io l'ho comprato ce l'ho sul comodino è bellino è una luce diciamo così a led che ricalca lo stemma del pisa io l'ho preso ce l'ho sul comodino e quindi però c'è riservato per noi uno sconto uno sconto sono riuscito a strappare uno sconto quindi magari per chi fosse interessato chi gli piace l'oggetto magari può tranquillamente acquistarlo qua insomma vi lascio il link sotto e in automatico vi va lo sconto guardate non costa neanche un'esagerazione è un trasparente fatto così insomma una trasparente col bellino un persiglass e niente c'è il c'è il telecomando se telecomando quindi si accende ora una luce bassa poi si può anche aumentare e ci sono vari colori no vedete tramite telecomando si cambia insomma blu chiaro blu chiaro verde acqua insomma c'è c'è una marea di di colori io l'ho messo come siamo così sul comodino carino quando mi hanno detto ma guarda io insomma sono messi a parlare un canale così così dice no allora uno sconto di così sì io propongo tanto però insomma mi è piaciuto e bellino insomma niente niente di eccezionale io ho pagato una ventina di euro però c'è lo sconto mi sembra 10 per cento insomma quindi è una cifra abbordabilissima secondo me poi ma chi è interessato chi non è interessato via discorrendo però insomma mi piace ecco ci sono vari colori poi si può aumentare l'intensità diminuire insomma uno poi fa insomma fa quello che vuole però ecco sinceramente mi è piaciuto e insomma è un oggettino sono così da mettere insomma su un mobilino nel soggiorno c'è la presa usb quindi sia si alimenta con un usb normale niente di che c'è il suo telecomandino si può mettere insomma si possono fare varie varie cose può impostare si può memorizzare le luci insomma poi uno si spizzarisce insomma ecco con tutto quello che c'è ecco il telecomandino è qua c'è la ripeto io l'ho pagata una ventina di euro ma niente io vi lascio il link se siete interessati a bellino insomma mi è piaciuta con la scritta fisa sporting club c'è proprio il simbolo diciamo nostro della nostra società ecco tutto lì io vi volevo insomma volevo volevo far vedere quello che ho comprato e c'è stato appunto questo mi siamo ci siamo messi a parlare detto si guarda io c'è un canale così e così porto del piso eccetera eccetera e allora hanno insomma ci siamo messi qua io ho contrattato uno sconto diciamo così per chi lo compra c'è c'è uno sconto c'è uno sconto già costa una ventina di euro è niente di non è una spesa insomma però c'è un ulteriore sconto quindi per chi fosse interessato io vi lascio il link qua sotto e niente nulla era così giusto per per farvi vedere insomma io penso che io ho preso subito visto preso insomma poi poi insomma soggettivo ripeto si può aumentare alzare l'intensità ci sono le varie varie colori avete visto verdi giallo insomma uno giallo insomma si può sbizzarrire come come crede insomma ecco poi c'è la cell off si spegne e niente via via questi bellini trasparente no vedete trasparente poi sotto c'è c'è la si illumina e fatto ma è un oggettino così ecco insomma uno io come l'ho visto l'ho preso subito pisa è così insomma vabbè basta io era solo solo per questo per dirvi questo secondo me ma mi è piaciuto ho detto ma lo faccio lo propongo con con un ulteriore sconto quindi insomma chi fosse interessato bene io mi fermo qua non mi allungo oltre ripeto a me mi è piaciuto io penso che a chi è che non piace no vabbè niente vi saluto venimando alle prossime insomma le prossime i prossimi 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 argomenti parleremo di calcio parleremo del pisa insieme a matteo ripeto un'altra settimana faremo sicuramente qualcosa e niente ragazzi vi do la buona domenica e niente ci sentiamo alla prossima io vi ricordo una cosa il pisa resta è tutto il resto passa iscrivetevi se volete